Ciao a tutti, io sono Francesco Di Tacchio, ho 35 anni. Tramite il mondo della recitazione, tra comparse e piccoli ruoli, ho scoperto di avere una passione per il doppiaggio, quindi l'idea di utilizzare la mia voce in maniera professionale nel mondo del doppiaggio e con l'auspicio per me stesso di poter diventare un attore doppiatore professionista. Mi piacerebbe frequentare l'Accademia del Doppiaggio per perseguire questo sogno e quindi vorrei essere valutato per entrambi i corsi. Grazie. Prova di lettura Il Rwanda, situato nell'Africa nera subito sotto l'equatore, è paragonabile per estensione al nostro Piemonte. Territorio di antichi vulcani, con i suoi verdi altipiani e le profonde valli, è anche detto il paese dalle mille colline. Il clima tropicale è particolarmente mite per l'altitudine che varia dai 1200 ai 2000 metri. L'azione tra le più povere del mondo conta solo sulle braccia dei suoi abitanti che praticano un'agricoltura di sopravvivenza. In epoca coloniale, gli europei hanno sviluppato un'agricoltura più razionale e di tipo intensivo per la coltivazione del tè, del riso e delle banane. Il tè, uno dei più pregiati del mondo, viene in gran parte esportato per miscelare altri tè di diversa produzione. Monologo maschile Pensavo a quello che mi hai detto l'altro giorno, riguardo al mio dipinto. Sono stato sveglio tutta la notte a pensarci. Poi ho capito una cosa, e sono caduto in un sonno profondo, tranquillo, e da allora non ho più pensato a te. Sai cosa ho capito? Sei solo un ragazzo. Tu non hai la minima idea delle cose di cui parli. Non sei mai stato fuori Boston. Se ti chiedessi sull'arte, probabilmente mi citeresti tutti i libri di arte mai scritti. Michelangelo Sai tante cose su di lui. Le sue opere Le aspirazioni politiche Lui è il Papa Le sue tendenze sessuali Tutto quanto, vero? Ma scommetto che non sai dirmi che odore c'è nella cappella Sistina. Non sei mai stato lì Con la testa rivolta verso quel bellissimo soffitto Mai visto Tu non sai dirmi che odore cosa vi è la mia planetta. E quindi questo è un riso стрommetto. Grazie a tutti.